Arturo, ha chiamato tua madre, vuole vederti questa mattina. Io rimango qui a boxare con Evander e poi farò la mia lezione di musica con Kanye West. Mi hai fatto male! È ora di mettere da parte gli atteggiamenti infantili. Na 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 na, Batman! Sposerai Susan Johnson, altrimenti ti taglio i viveri. Mi sposerò quando sarò innamorato. Hai appena perso 950 milioni di dollari. In effetti Susan è una ragazza molto speciale. Noi non ci dovremmo sposare. È una partnership da fare. Non abbiamo niente in comune. Tu ami i cavalli, io non mi fido di loro. Indossano sempre le stesse scarpe. Come si fa a essere tanto devoti a delle scarpe? La nostra visita prosegue a Grand Central. Scusa. Sai, c'è quella ragazza. Credo che lo stia motivando. Sta per sposarsi. Sali a cavallo, forza. No, non fa niente. Ti do una mano! Non sei adatto! È stato facilissimo. Tu non puoi vivere senza soldi. Trovo un lavoro. Sono un uomo adulto ormai. E questo non compromette quello che ho appena detto. Come ti tratta il mondo reale? Benvenuti al pianeta delle caramelle! Ciao! È debole. È più forte di quanto credi. No, Susan, aspettino! No! Il mio letto è fatto di magneti! Staccami da qui! Metti questo, per favore. Ma neanche per idea. Dì, lavati il pipino. Lavati il pipino. Marcia! Marcia!